La 34esima giornata di Serie C ha prodotto tre pareggi per le Romagnole. Tre punticini che le mantengono in linea di galleggiamento per i rispettivi obiettivi di classifica, anche se per tutte resta una punta d'amaro per non avere colto un risultato pieno, che sarebbe stato meritato soprattutto per Rimini e Ravenna. Giallorossi che al cospetto della capolista Pordenone non hanno tremato, anzi, per primi hanno cercato la via del gol col cross di Selleri per Nocciolini, colpo di testa vincente ma viziato da un netto offside. Rete annullata dunque, mentre i ramarrici provano soprattutto nella ripresa e sfiorano il vantaggio al 76esimo con la traversa colta da Magnanchi. La replica dei bizantini arriva cinque minuti più tardi, quando l'arbitro Marchetti punisce con un rigore la trattenuta di De Agostini su Martorelli. Dal dischetto Gallupini coglie la traversa ed è così 0-0 al Benelli. Identico punteggio anche tra Virtus Vecomp Verona e Imolese, con il rosso-blu apparsi sotto tono rispetto alle ultime esibizioni. Il Rimini invece può piangere sul latte versato non essendo riuscito a capitalizzare la rete realizzata al quarantesimo da Piccioni, complice un clamoroso errore del portiere dell'Albinoleffe Cortinovis. Nella ripresa però i padroni di casa cambiano marcia e trovano il pareggio con Cuco. I biancorossi restano così in ultima posizione in compagnia di un Fano bloccato sullo 0-0 dalla Renate.